Sorride alla polisportiva Galli-San Giovanni il confronto di vallata di Serie C di basket al termine di un confronto si equilibrato, come dice il punteggio finale, ma frutto di sporadici break dall'una e dall'altra parte. Tanto è che San Giovanni mette subito la testa avanti con un parziale di 14 a 3, dalla prima palla a 2 e il più 11 per gli ospiti si ripete anche poco dopo l'inizio del secondo quarto, sul 17 a 28. Il controllo ospite però di qui all'intervallo sparisce, la Fides mette a referto 16 punti consecutivi e sul 33 a 28 con 5 punti di vantaggio va a riposo. Terzo periodo con grande equilibrio anche se i gialloverdi provano a scappare anche sul 40 a 30, prima che si chiuda però il parziale sul 45 a 41. Ultimo quarto della gara ed ecco il ritorno del Galli guidato dall'ex di turno Marco Giuliana, miglior marcatore assoluto con 20 punti a referto. San Giovanni va al pareggio a quota 50 punti e poi avanza con l'equilibrio rotto a meno di due minuti dalla fine. L'ultimo tiro con la Fides sotto di tre non tocca neanche il ferro e così l'ultima sirena dice Fides 62, Polisportiva 65.